ciao a tutti e benvenuti sul mio canale youtube adesso farò questa ricetta presa da un evento del gruppo nuvola un amore di pasta madre è una ricetta suggerita da rosa di fonzo che è l'amministratrice quindi sono delle palline di pane semidolci si possono mangiare sia sia col dolce che con il salato e andiamo a vedere insieme come farle seguitemi bene questi sono gli ingredienti vedete sono pochissimi ingredienti per fare queste palline di pane invece dell'acqua usiamo il latte questo è il licoli il licoli che ho rinfrescato 4 o 5 ore fa lo metto nella ciotola lo metto nella ciotola della planetaria ci verso il latte non deve essere freddo il latte quindi a temperatura ambiente o quantomeno una siepidita sciolgo il licoli poi ci metto lo zucchero lo zucchero di canna faccio girare un pochino e dopo che si è sciolto ci butto tutta la farina tutti i 500 grammi di farina io sto usando una farina 00 di 12 con 12 proteine ok ecco qua sto seguendo naturalmente tutti i passaggi dell'evento sul gruppo nuvola un amore di bassamadre questa ricetta ce l'ha suggerita rosa di fonzo che è l'amministratrice allora dopo aver amalgamato bene quando negli ingredienti quando si comincia ad attorcigliare al gancio comincio a mettere il burro a pezzettini un po per volta continuo a girare una volta messo il burro l'impasto tende un pochino ad adagiarsi ma non importa continuiamo a girare ma non non tantissimo non aspettiamoci in corda come quando facciamo il pane si presenta così vedete la ricetta di rosa dice di mettere direttamente nel recipiente io ho voluto appoggiarlo un attimo sul piano di lavoro giusto così una birlatina poi lo metto nel contenitore e questo impasto deve riposare a temperatura ambiente sei ore io siccome ho fatto iniziando nel pomeriggio cioè nel pomeriggio tardi quindi ho fatto un passaggio in frigo di notte la mattina dopo l'ho tirato fuori quindi è stato sette otto ore in frigo l'ho tirato fuori l'ho tenuto un pochino a temperatura ambiente ed eccolo qua come vedete si presenta così non è neppiccicoso ma nemmeno tanto elastico e quindi procedo per fare queste palline le voglio fare come come le ha fatte rosa di 30 35 massimo 37 quindi cerco di aggiustare un pochino il tiro preparo tutti i pezzetti comunque più o meno se non è 37 35 o 39 insomma non importa però cerco di centrare bene la misura ecco qua ho preparato tutti i pezzetti come vedete e adesso li formo e li pirlo così li allargo un pochino sono piccolini quindi però ecco così piano piano ce la possiamo fare ecco qua faccio come si fa per i panetti della pizza ok e poi una pirlatina e di arrotondo e insomma sì per pirlare bisogna togliere la farina altrimenti non si pirlano bene essendo anche piccoli ok ho preparato la teglia con con la carta scusatemi la voce ma con questo tempo pensate che siamo quasi a metà giugno ogni pomeriggio ci sono i temporali quindi è facile usciamo fuori magari col caldo poi all'improvviso un po' di freddo e ci freghiamo la gola ecco qua ok beh sono carini no ecco faccio piano piano e li adagio li adagio poi alla fine mi sono uscite fuori 28 pezzi 28 perline continuo vi ricordo che sto seguendo un evento sul gruppo nuvola un amore di pasta madre se siete iscritti naturalmente trovate la ricetta tra gli eventi con tutti i passaggi il procedimento che ha fatto l'amministratrice rosa di fonso bene sono pronti però adesso bisogna lasciarli lievitare all'incirca 2-3 ore dipende dalla temperatura io li ho lasciati forse anche 4 ore per problemi miei li ho coperti con la pellicola altrimenti con un telo vedete sono cresciuti sono raddoppiati e quindi posso prepararli per infornarli ho preparato un tuorlo con un po' di latte e li spennello mettendo il latte non vengono tanto scuri poi io ci ho messo sopra un po' di sesamo voi mettete quello che volete potete anche lasciarli senza niente io ne ho fatti un po' con il sesamo e un po' senza niente vado ad infornare a 200 gradi statico per 10 minuti all'incirca come vedo che si coloriscono stanno colorendosi sopra e abbasso a 180 e continuo per altri 10 o 15 minuti ed eccoli qua vedete ne ho aperto uno ma è caldo però si vede che l'interno è bello beh questi se vogliamo mangiarli con la marmellata o con la nutella caldi sono perfetti questa è la seconda infornata perché sono tanti ho fatto due teglie come vedete sono splendidi veramente splendidi adesso li assaggio con la marmellata questa è una marmellata di fragole che ho fatta io e vi dico come sono beh sono morbidi morbidissimi e buoni sono veramente buoni naturalmente qui ci sta bene anche un po' di salame una frittadina, insalata, pomodoro quello che volete quindi o dolce o salato ringrazio rosa per averci suggerito questa ricetta ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video ciao